Sono le 7.35, buongiorno dalla redazione del telegiornale. In primo piano nel telegiornale andiamo subito negli Stati Uniti per sentire cosa ha detto nella sua prima intervista rilasciata alla CNN. Kamala Harris, la candidata democratica per la Casa Bianca, resta intanto confermato il duello TV per settembre con Donald Trump. Trump che ha appena definito l'intervista dell'Harris noiosa. Vediamo. L'intervista era molto attesa, la prima del ticket Dem Harris-Waltz, quest'ultimo quasi una comparsa negli studi CNN di Atlanta, Georgia, uno degli stati chiave del Sud. La novità è l'annuncio che Kamala Harris intende nominare un repubblicano nella sua amministrazione, come fece anche Barack Obama, evidente l'intenzione di attirare i conservatori che non sopportano Trump. Ha poi ammesso alcuni cambiamenti nelle sue posizioni politiche dovuti all'esperienza da vicepresidente, anche se, assicura, i valori non sono cambiati. E allora ribadisce che la questione climatica è reale e urgente, anche se non vieterà il fracking, la tecnica per estrarre gas e petrolio dalle rocce che alimenta un settore chiave nello stato imbilico della Pennsylvania. Quanto al tema immigrazione, sul quale viene attaccata dai repubblicani, Kamala Harris si impegna a punire gli irregolari e a far rispettare la sicurezza al confine, senza dimenticare però che è stato Trump ad aver affossato l'accordo bipartisan che era stato raggiunto. Alle accuse sessiste di stampo razziale del tycoon risponde così. Il solito vecchio e logoro copione. Prossima domanda, per favore. Kamala Harris sottolinea i successi di Biden in tema economico, lavora e inflazione in particolare, promette che sin dal primo giorno alla Casa Bianca lavorerà per rafforzare la classe media. Infine il Medio Oriente. Si deve ottenere un accordo per il cessato del fuoco e la liberazione degli ostaggi, dice la Vicepresidente, che rilancia la soluzione dei due Stati, ma sulla fornitura delle armi allo Stato ebraico precisa non ci sarà alcun embargo. E a proposito di Medio Oriente. Le Nazioni Unite hanno raggiunto un accordo provvisorio per consentire la vaccinazione antipolio nella striscia di Gaza. Le Nazioni Unite hanno anche chiesto però a Israele di fermare le operazioni militari in Cisgiordania. L'esercito ieri ha ucciso cinque palestinesi che si nascondevano in una moschea, tra questi anche uno degli ideatori degli attacchi del 7 ottobre. Intanto un attacco israeliano nella notte contro un edificio a Gaza ha ucciso nove membri della stessa vittima. Tra le vittime c'erano anche cinque bambini e una donna incinta. Ed ora l'Ucraina. Ieri nel Consiglio dei Ministri degli Esteri Europei se ne è discusso a Bruxelles a proposito delle armi e delle restrizioni per l'utilizzo di essi in territorio russo. Vediamo com'è andata. Da mesi Zelensky lo chiede, ma da mesi non riesce a ottenere via libera dei partner occidentali all'uso delle loro armi a lungo raggio verso il territorio russo. Ci ha approvato il suo Ministro degli Esteri, Kuleba, che ha tentato di convincere i 27 dell'Unione Europea, sostenuto dall'alto rappresentante per gli affari esteri, Borrell, che ha spiegato l'Ucraina deve poter usare le armi in pieno, altrimenti sono inutili. Ma niente, il via libera del Consiglio dei Ministri degli Esteri non è arrivato. Proposte folli quelle di Borrell, le ha definite il Ministro degli Esteri ungherese, mentre quello italiano, Tajani, ha ribadito che la posizione di Roma non cambia. Il nostro materiale bellico può essere usato solo all'interno del territorio ucraino, ha precisato, mentre per Francia, Olanda, Finlandia, Lettonia e Polonia non ci sono restrizioni. Kuleba ha provato a spiegare ai 27 che da quando l'Ucraina è entrata a Kursk tre settimane fa, lo scenario del conflitto è cambiato. Abbiamo dimostrato che possiamo battere Mosca se siamo ben equipaggiati, ha detto, lamentando i troppi ritardi nella consegna degli aiuti militari. Ritardi che potrebbero servire a spingere Kiev verso una soluzione diplomatica, visto che per battere Mosca sul campo ci vorrebbero dai 400 ai 900 miliardi di euro e non tutti i paesi europei sono ancora disposti a darli. La politica questa mattina a vertice di maggioranza e a seguire il Consiglio dei Ministri. Vediamo. Giorgia Meloni torna a riunire i suoi due vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini, oggi alle 10 vertice di maggioranza dopo i nervosismi registrati durante la pausa estiva legati soprattutto a ipotesi di riforme fuori sacco, a partire da quella immaginata da Forza Italia sulla cittadinanza. Avanti uniti col programma e la linea della Premier, quel che è fuori, come lo Just School, solo con piena convergenza che al momento sul tema non c'è. Un chiaro no a un intervento auspicato anche dalla CEI, in una fase in cui ci sono anzitutto da trovare risorse per la manovra economica. Agli alleati la Premier lascia intendere che non è tempo di bandierine, l'alto debito e le regole del nuovo patto di stabilità richiedono cautela, specie in una fase in cui si propone Raffaele Fitto come commissario europeo, puntando a una delega esecutiva nella nuova squadra von der Leyen. Oggi alle 13 l'indicazione arriverà dal CDM e che recepirà anche direttive UE su criptoattività. Proprio sulla legge di bilancio, ieri l'esecutivo ha dovuto disinnescare un retroscena giornalistico sulla cancellazione dell'assegno unico per i figli da rifinanziare. Le opposizioni alzano un muro, la segretaria Demelich Laine difende la dimensione universalistica dell'aiuto, ma era stata la stessa Premier a smentire ieri in un video quella che il governo ha bollato come fake news. Abbiamo aumentato noi l'assegno Tagliacorto Meloni, ribadendo però la netta contrarietà a estenderlo a tutti i lavoratori immigrati. L'ex brigatista Leonardo Bertulazzi è stato arrestato dopo molti anni di latitanza in Argentina. È finita a Buenos Aires la latitanza di Leonardo Bertulazzi, ex componente delle Brigate Rosse, arrestato al termine di un'operazione di polizia italiana e argentina. Dal 1980 sfuggiva alla giustizia italiana. In Argentina aveva ottenuto lo status di rifugiato, ora revocato, che l'aveva protetto da eventuali estradizioni. Ora dovrà essere riportato in Italia e dovrà scontare una pena complessiva di 27 anni di carcere per sequestro di persona, associazione sovversiva e banda armata. Leonardo Bertulazzi, conosciuto con il nome di Battaglia Stefano, è stato membro della colonna genovese delle Brigate Rosse. Nel 1977 fu coinvolto a Genova nel sequestro dell'ingegnere navale Pietro Costa, organizzato dalle BR del capoluogo Ligure, per ottenere i soldi per l'acquisto dell'appartamento di Via Montalcini a Roma, dove fu tenuto prigioniero Aldo Moro. Da qualche settimana all'intelligenza italiana, gli investigatori della Digos di Genova e dell'Interpol studiavano le mosse di Bertulazzi, per poi fermarlo e notificargli il provvedimento della giustizia italiana. La premier Giorgia Meloni ha espresso apprezzamento per l'esito dell'operazione. L'arresto del latitante, membro delle Brigate Rosse, ha dichiarato in una nota, è stato reso possibile da un'intensa e proficua collaborazione tra le autorità giudiziarie italiane e argentine e l'Interpol. L'omicidio di Sharon, quasi un mese dalla sua morte, si continua a cercare l'arma e soprattutto si cerca di dare un nome al suo assassino. L'arma con cui è stata uccisa Sharon Verzeni non si trova e avanzano altre ipotesi su chi potrebbe essere il suo assassino. La donna potrebbe aver avuto un appuntamento anche se non risultano telefonate fatte poco prima dell'omicidio. L'altra possibilità che sta prendendo piede è quella dello sbandato. Un balordo tra i puscero, i cani sciolti che stavano sulla piazza fino al 30 luglio e che ora, vista la presenza di carabiniere e giornalisti, sono spariti. Tutti, tranne uno. Lo ha riferito un pizzaiolo egiziano che racconta di essere pure stato minacciato. Il villa assassino di Sharon deve sapere che nessun ostacolo fermerà mai la sua individuazione, scrive in un comunicato l'avvocato della famiglia Verzeni. Sono durate due giorni le ricerche del coltello di altri elementi utili a questa indagine ancora lontana da una soluzione. Gli specialisti del Mure, il Museo Resistenti dell'Alto Garda, abituati a cercare reperti della Prima Guerra Mondiale con metal detector e calamite, hanno battuto anche la zona intorno alla casa in cui Sharon viveva col fidanzato. È un po' tardi per cercare l'arma, ha commentato Sergio Ruocco. Si continua a cercare anche l'uomo in bicicletta. Le telecamere lo hanno ripreso mentre si allontana a contromano. Non si è ancora fatto vivo, anche se gli inquirenti hanno precisato che non si tratterebbe del killer della donna uccisa un mese fa. Parliamo adesso dell'affondamento del Baezan, perché l'equipaggio al completo ha lasciato l'Italia. Sono in programma per domani le prime due autopsie sulle vittime del naufragio del Baezan, lo yacht di lusso affondato all'alba del 19 agosto, a poche miglia dalla costa davanti a Porticello, a est di Palermo. Sembra scontato l'esito degli esami che si svolgeranno nell'Istituto di Medicina Legale del capoluogo siciliano. Le sette vittime sono morte annegate nel tentativo di uscire dalle cabine nello scafo del veliero dove dormivano. Tra di loro anche l'imprenditore britannico Mike Lynch, proprietario dello yacht, e la figlia di 18enne Anna. Intanto anche James Catfield, il comandante della nave, ha lasciato l'Italia in attesa degli esiti delle indagini. Catfield è uno dei tre indagati per naufragio e omicidio plurimo colposo, insieme all'ufficiale di macchina e al marinaio in turno in plancia, che già nei giorni scorsi avevano lasciato il paese. Continuano le indagini della procura di termini imerese e, secondo il Corriere della Sera, spuntano un nuovo video e una testimone che stava lavorando in un cantiere navale proprio di fronte a dove era ormeggiato il Baezan. Ma solo l'esame del relitto sarà decisivo per capire le cause del naufragio. Cinque operai un anno fa furono uccisi e travolti da un treno. Accadeva a Brandizzo, in provincia di Torino. Vediamo. Cosa è cambiato? Nulla. A un anno dalla strage di Brandizzo, in cui persero la vita cinque operai addetti alla manutenzione, c'è grande amarezza tra i familiari delle vittime. Non abbiamo avuto risposte, dice Edoardo, il fratello di Giuseppe Aversa. Non sappiamo chi siano i colpevoli. Tra oggi e domani il comune di Brandizzo ricorderà l'incidente ferroviario con diverse iniziative. Nella notte tra il 30 e il 31 agosto di un anno fa, un treno a 160 km orari travolse un gruppo di operai a lavoro sui binari. Morirono Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, Saverio Lombardo, Giuseppe Sorvillo e Michael Zanera. Nell'inchiesta della procura di Ivrea sono stati indagati i due lavoratori superstiti dell'incidente, i vertici di Sigifer, l'azienda incaricata dei lavori, e due dirigenti di RFI. I sindacati denunciano che c'è ancora molto da fare per la sicurezza sul lavoro. Oggi alle commemorazioni parteciperà Chiara Gribaudo, presidente della commissione d'inchiesta della Camera. Annuncia che il 12 settembre verrà presentata la relazione sulle condizioni di lavoro in Italia. La pagina dello sport si apre con il tennis, sono sei gli italiani al terzo turno negli Open degli Stati Uniti nella notte vittoria di Coboli, successi anche per Sinner e Arnaldi, fuori invece clamorosamente lo spagnolo Alcaraz. Dopo l'inizio gioppicante dell'esordio, Yannick Sinner cambia marcia e trova la qualificazione al terzo turno degli US Open con una prestazione convincente. Contro il tennista di casa Alex Mikkelsen, l'Azzurro chiude la pratica in velocità, vincendo in tre set in appena un'ora e 41 minuti. A un primo parziale più o meno equilibrato, hanno fatto seguito altri due parziali praticamente a senso unico. Sinner adesso se la vedrà con l'australiano Christopher O'Connell che ha sconfitto l'altro azzurro Mattia Bellucci 3 a 0. Una vittoria facile, quella di Sinner, anche se il numero uno al mondo, riduce dalla vicenda doping involontario che lo ha colpito, non si sente ancora al top delle sue capacità. Ritmo, servizio, colpi da fondo e discesa a rete, dettagli, ha detto Sinner al termine della partita, da migliorare ma che fanno la differenza. E al terzo turno sarà una doppia sfida Italia-Australia. Matteo Arnaldi sfiderà infatti il connazionale di O'Connell, Jordan Thompson, dopo aver superato il numero 57 al mondo, Roman Safiulin, battendolo 3 a 0 in due ore e sei minuti di gioco. Un ottimo risultato quello di Arnaldi che al turno successivo, oltre a Sinner, raggiunge anche Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Mai quattro italiani erano arrivati al terzo turno dell'Open americano. Nel torneo femminile avanzano Sara Errani e Jasmine Paolini, in quest'ultimo caso per il ritiro della sua rivale Carolina Pliskova. E poi c'è il calcio con i sorteggi della Champions League, con la nuova Formula 36 squadre. Ieri intanto bene la Fiorentina nella Conference League, vediamo. È la prima volta in assoluto di una fase iniziale di Champions a girone unico, aperta a 36 squadre. Subete stratta l'Inter, sfiderà San Sirio, Lipsia, Arsenal, Stella Rossa, Belgrado e Monaco. Andrà invece in trasferta in casa di Manchester City, Leverkusen, Jan Bois e Sparta Praga. Il Milan verrà ospitato dai campioni in carica del Real Madrid, dal Leverkusen, dal Bratislava e dalla Dinamo Zagabria. In casa la squadra rossonera giocherà contro Club Brugge, Liverpool, Girona e Stella Rossa. La Juventus andrà in casa invece di Aston Villa, Club Brugge, Lipsia e Lille. Saranno di scena allo stadio motorinese Manchester City, Benfica, Eindhoven e Stoccarda. Per il Bologna al ritorno in Champions dopo 60 anni, in programma un viaggio senza dubbio difficile a Liverpool. Altre trasferte a Birmingham con l'Aston Villa e due volte a Lisbona contro Sporting e Benfica. Fattore campo per il rosso-blu contro Dortmund, Shakhtar Donetsk, Lille e Monaco. Atalanta chiamata a far visita a Barcellona, Shakhtar, Jan Bois e Stoccarda. A Bergamo verranno invece a giocare Real Madrid, Arsenal, Celtic, Glasgow e gli austriaci dello Sturm Graz. Si qualificano direttamente le prime otto. Traguardo la finale di Monaco di Baviera in programma il 31 maggio. Prossime edizioni del telegiornale alle 13.30. Rimanete con noi, tra poco torna Paolo Sottocorona. Poi c'è Andrea Pennacchioli che conduce il dibattito e poi Marco Piccaluga che conduce Coffee Break. Grazie, una buona giornata. Grazie.